Due, uno, via. Piano, 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 pianissimo, pianissimo, più piano. Vedi perché più piano, perché io da girare avanti e ti prendo di nuovo. Non c'è un problema. Che c'è la roba? La roba fa schifo. Chioli, allora, se io sono arrivato così, poi dovete essere precisi per petto. Nel tempo che io passo indietro, nel tempo che io passo così, se io sono ancora qua, io te non ti prendo. Quindi appena io passo, tu ti devi mettere subito così e devi chiudere che ci deve stare più crescita. Quando posso? E tu devi stare precisosi. Quando io sono così, voi fate lo scambio e tu te ne vai. Te ne vai. Loro si girano verso di me. No, no, questa è farina. Sbem, bem, bem. E poi tu mori, dopo un po'. Ma questa non è farina. Domani avrai anche un sacchetto di sangue che appena cadi per terra, te lo devi sbavare e fare nella faccia. Lo devi sbavare e fare. Mi mettete una maglietta che tu puoi fare. La maglietta, che si, che si spacchiuso, però che ti ha compro. Ma c'è un sangue finto, un po'. No, c'è un sangue finto. Andiamo a dire. No, 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 non ti devi stringere a lui. Devi rimanere su da posto, Sara. Perché sennò lo... Ho dimenticato di dargli i soldi. No, no. Senza i soldi non se... Tirate, tirate. Questa di me. Eh, così, così, così. Ma questa è farina. No, 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 no. Ma questa è farina. Space, space, space. Vai, 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 vai. Aspetta, io prima vi prendo a voi e sparate così, vai, miratelo, miratelo e sparate. No, no, pam, 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 suoi pam. Ma più bello è un colpo secco, figlioli. Che cazzo! Sara Sara, ti guarda, mi è traspassata. Devo fare la stessa cosa con lui, mi devo girare davanti. Allora qui rallentiamo perfetto. Vabbè fate conto qua non si può fare perché. Oh, ti diamo davanti così. No. Vai. Spari. No, vete sparare. Allora, dipendo da sparare. Quando tu me la farai aprire il tuo petto. Ok. Quando sento la botta al tuo petto lo fai. Occhio. Spingetemi. Aspetta che mi fermo. Ok, vai. Ma questa è farina. Tu muori un po' più in laterale. Perché se tu cammini e trovi. Certo. Guarda la macchina della scuola. Buon chance. Vai andate. Ma questa è farina. No. 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 Piano piano piano. Arriva Giorgio. Aspettate. Aspettate arriva Giorgio. Andare se non sai andare. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma questa è farina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.